Siamo a Colliano nell'aula consigliare dove si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione della mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici locali. Sì, noi pensiamo che le caratteristiche locali, i prodotti tipici, ciò che caratterizza un paese o una comunità debba essere valorizzato e quindi ben fa il comune di Colliano, la Prologo, le associazioni a mettere in evidenza questo prodotto che può essere un attrattore e può anche creare le condizioni affinché ci sia uno sviluppo economico. Ecco, noi dobbiamo fare in modo, anche il convegno, il tema, la discussione, parlare di queste tematiche, aiuta appunto a sdoganare il fatto della sagra che è sicuramente un momento di incontro per far venire persone a gustare questi prodotti ma noi ci dobbiamo sforzare soprattutto di creare le condizioni affinché da questo prodotto possa poi nascere un'opportunità di carattere economico. E questo è un tema che vale per Colliano, per il tartufo, ci sarà Sicignano per la castagna, c'è Baccanalia per il vino. Possiamo andare a enunciare vari prodotti per i nostri territori. Ecco, noi dobbiamo saper valorizzare tutto ciò. Abbiamo paesaggi, abbiamo prodotti tipici. Dobbiamo necessariamente partire da questo per caratterizzare la nostra economia. Questi sono i nostri punti di forza. La banca, che è una banca locale che conosce l'economia e deve pure sollecitare un po' gli imprenditori, vuole essere parte importante per appunto creare le condizioni affinché ci sia uno sviluppo sinergico con le amministrazioni comunali, con gli imprenditori. Questo secondo me è un punto di partenza importante che permetterà al nostro territorio di fare uno scatto in avanti. Noi ci siamo, siamo felici che l'amministrazione, la Proloquo abbia voluto che anche la banca fosse partner. Noi siamo molto presenti sul territorio e quindi vogliamo essere parte di questo percorso di sviluppo. Questa è la ventitresima mostra mercato nazionale del tartufo, del quale Colliano ne va a fiero, perché secondo me il tartufo è un prodotto di alta qualità e noi come Colliano abbiamo una grandissima produzione. Però in occasione di questa mostra è organizzata in modo tale da promuovere tutti i prodotti tipici di Colliano, ma di non solo, di tutta l'Alta Valla del Sele e di tutta la Campania, perché vengono ad esporre, in questa mostra che attira un grande numero di visitatori, vengono ad esporre da tutta la Campania. La Germesse è molto ricca, va da venerdì 11 a domenica 13 e durante questa Germesse ci sono anche due convegni importanti, mirati alla produzione del territorio e alla promozione delle aree interne come sono le nostre. Poi ci sono diversi spettacoli, itinerandi durante la serata, spettacoli teatrali per bambini. Poi abbiamo, il motivo principale per il quale si viene, la possibilità di poter degustare diversi piatti tipici aromatizzati al tartufo e non solo. Colliano non è solo tartufo ma è anche un grande territorio per chi ama fare trekking? Certo, Colliano è tartufo e collegato al fatto che fa trekking perché abbiamo delle montagne bellissime, abbiamo una superficie molto vasta, infatti Colliano è uno dei paesi più grandi della Valle del Sele, si estende su una superficie di 53 km quadrate e la maggior parte del nostro territorio è montano. Abbiamo delle montagne molto belle, il parco del Monte Remita a Marzano, da dove previene il tartufo e nel quale è possibile fare passeggiati sui sentieri lungo la montagna. Presidente Iannarella, 23esima edizione della mostra Mercato del Tartufo, non solo tartufo, non solo territorio ma un territorio che vuole un riscatto fortissimo. Certamente, noi siamo impegnati da più di un ventennio nell'organizzare questo evento che credo sia il fiore all'occhiello di tutta l'Alta Valle del Sele e non solo. Il nostro obiettivo è quello di dare l'input alle aziende del territorio affinché possano con questa manifestazione farsi conoscere, far conoscere i prodotti di eccellenza che abbiamo nel nostro territorio. Un evento che in questa edizione si avvale del partenariato del BCC Buccino Comuni Cilentani. Sì, con piacere abbiamo avuto la disponibilità da parte della BCC di Buccino Comuni Cilentani di essere presenti a questa manifestazione. La cosa non può che farci piacere perché credo che sia opportuno che nel territorio ci sia collaborazione. Quando si organizzano questi eventi anche con gli istituti di credito che sono presenti sul territorio e con tutte le maestranze che possono essere utili per l'organizzazione dell'evento.